Ciao a tutti ragazzi, io sono Verges e benvenuti in questo nuovo video di Soapboard che non esce da... da quando non esce? Da quando abbiamo annunciato la serie Quindi aspetta che vado a controllare Tanto Vado a controllare in diretta ragazzi Primo video uscito ben il 30 aprile 2021 Siamo al 21 giugno Già E tutto questo perché? Perché ho gli esami, dio santo No, perché... no, 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 mettiamolo in un modo diverso Serve dell'ispirazione per fare le cose fatte bene E soprattutto per disegnare degli artwork di merda come i miei, quindi voglio dire Dite quanto sono belli gli artwork di generale 1 a 10 Non è caso! Noi siamo qui oggi per parlare a sto giro dei supporti di un mazzo Per quale motivo? Geno spiega Ok, allora, essenzialmente abbiamo deciso questa volta Che siccome lo scorso video era un pochino povero di contenuti Perché, ok, erano due mazzi Però l'unica cosa che abbiamo fatto esattamente è stato leggere le carte e parlarne due secondi Stavolta faremo... che faremo? Abbiamo un mazzo solo Leggiamo le carte, sono quattro Ne parliamo per due secondi E poi facciamo un playtest Dove ovviamente lui che ha testato il mazzo e l'ha ideato Gioca il mazzo, io gioco X-Saber con i supporti nuovi Sì, esattamente come i supporti dello scorso video Per chi non lo sa, cliccate qui O dove stai indicando Luca, questo non lo so Aspetta che cambio Cliccate sul canale Andate in playlist Andate su support Va bene, pensavo mettessi la card E non si può più mettere, mi dispiace Che palle, va bene E niente, siamo qui per parlare dei supporti Umi Dedalo Che è solo un mazzo richiesto In realtà, chi lo chiese Disse supporti per Umi Dedalo Maria Legendario Quelle carte là Io e Geno ci siamo guardati in faccia Ovviamente via webcam, perché era aprile E ci siamo detti, ma che cazzo vuol dire Quindi, di conseguenza, abbiamo fatto Dei supporti Dedalo Abbiamo letto molte Abbiamo letto molte carte Che non avremmo mai dovuto leggere Tuttavia Quindi siamo pronti per presentarvi Umi Dedalo In tutta la sua incredibile Schifezza In tutta la sua incredibile schifezza Quindi, allora Essenzialmente Di base Abbiamo letto le carte Abbiamo capito che Lo scopo del mazzo è evocale Evocare Neo Dedalo Se risolvere l'effetto Per fare Praticamente Handloop all'avversario E l'obiettivo è avere sempre Umi Qualsiasi versione sia Bisogna avere Umi Eh Inoltre abbiamo visto che questo mazzo Ha parecchia sinergia Contributo torrenziale In quanto esiste Furia di Kairoshin Quindi nel playtest Userò una build Basata su quello Inoltre Le carte che ne dicono Umi Hanno sinergia anche con Pescatori leggendari Seastelt Attack Carte casuali Tipo Tipo Abyss Storm Che Va bene E quindi Leggiamole Sei pronto Luca? Allora Il primo è Loverlord Of The Seven Seas Ulti Scritto maiuscolo Perché deve essere Più grosso è Meglio è Ok Cerca di tradurre Comunque Luca Cerca di tradurre L'effetto Il nome Te lo traduco io Se vuoi Allora Penso che sia Il Signore divino Dei Dedali definitivi Dei sette mari Ceri quasi Sovrano dei sette mari Ulti Dedalo Ulti Dedalo Ok Va bene Quindi è un mostro Di dieci stelle Undici stelle Acqua Serpente marino Con effetto Quattromila di attacco Tremila di difesa Perché so Che molti di voi Impazziscono per I mostri con Quattro K di attacco Tre K di attacco Tre C Quindi di conseguenza Abbiamo fatto grosso Ma non grosso grosso Ma grosso più grosso più grosso E quindi Grosso più grosso Tre volte praticamente Se controlli Umi Questa carta È emune Dalle effetti Delle carte Del nostro avversario Quindi Gli diamo già Una protezione stile Di arrival cybers Sì Però Deve avere la terra È più una Cosa tipo marinse Sì Quindi per questo motivo Farà sempre cacare il mazzo Perché c'ha quella cosa De Umi Punto Eh ma Le altre carte Avranno da ridire Continua a leggere Puoi offrire come tributo Due mostri Dedalo O un mostro Neo-Dedalo Che i Neo-Dedalo Se non sbaglio Si evocano Offrendo come tributo Sì Non hanno condizioni Di evocazione special Quindi sì Si evocano normal Quindi Lo possiamo Possiamo tributare Due Dedalo O un Neo-Dedalo Per evocarlo specialmente Dalla mano O cimitero Effetto che si dichiara Non è Inerent summon Non è inerent summon Non è inerent summon Di conseguenza Lo richiariamo E tributiamo Per costo E lo revochiamo Se No no Non è neanche costo Non è neanche costo No non è costo Se non controlli Una terreno Scoperta Puoi Scegliere come bersaglio Una Umi Nel tuo cimitero Di costo La aggiungi alla mano Oppure la attivi Che ci può stare Negabile di bell Però ci sta Comunque Cazzo È forte Come cosa Sì Nel Alla fine Nel peggiore dei casi Ci ricicla Una terreno Sì infatti Puoi utilizzare Ognuno di questi effetti Di Lui Lui Una volta per turno Quindi è hard ones per turn Quindi limitato Al meglio Ovviamente Come da Genu Perché Genu Non vuole fare Le cose sbroccate E infatti Puoi Io sono Io sono Una cazzo Di bilancia Con gli effetti Per cazzo Che a volte Rischi di farli Un po' troppo deboli Eh A volte Un po' troppo forti Vedi Amaru Saccia In ogni caso La carta è forte Assolutamente Un 4000 Che entra Più o meno A cazzo di cane Sì sì E un 4000 Abittone Immune a tutto Se c'è la terreno Infatti Una carta molto semplice Molto molto forte Però Andiamolo ad accompagnare A Seaking Dragon Dedalus Prego Genu Questo lo leggo Questo lo leggo io Questo è Re mare Non re dei mari Re mare Drago Dedalo Il nome di questa carta Diventa sempre Levi a dragone Dedalo Mentre sul terreno Nel cimitero Insomma Ci fa danno mio aggiuntivo Possiamo rivelare Un mostro Dedalo Dalla nostra mano Evocare specialmente Questa carta Dalla nostra mano È un effetto Sì Non mi ricordo bene Perché La policy Credo sia scritta male Però Dovrebbe essere un effetto È perché Riveli di costo Eh sì Quindi Sì Non è una Illidan summon Puoi mandare Una carta Umi Scoperta che controlli Dal cimitero Per aggiungere Un mostro Dedalo Dal deck O cimitero Alla tua mano Puoi utilizzare Ognuno dei seguenti effetti Una volta per turno Vabbè Questo effetto Puoi utilizzare Solo questo effetto Perché può essere Evocato specialmente Quante volte vuoi Dalla mano Ma Può andare Una volta sola Questo effetto È alla fine Negabile Da un sacco di roba Ash Bell Corvo Un bordello di roba Sì ma Insomma È una cartina simpatica Per far girare il mazzo Sì ci sta Soprattutto ti dà fodder Da tributo Molto facilmente Esatto Quindi direi che Ci sta assolutamente Poi Abbiamo anche Un'altra terreno Una Penso che sia La quindicesima terreno Che è il mazzo E ne giocherà Solo sei Quindi voglio dire Labirinto Dei Signori Dei draghi oceanici C'eri quasi Sempre singolare Labirinto Del Signore Drago oceanico Ah del Non sono tanti Signori Drago oceanici Eh no The ocean dragon lord Eh sì Ma Le ocean Lords Eh ma Gli ocean dragon lord Sono abbastanza In realtà Vabbè Quindi Convergono tutti Nello stesso mostro Alla fine Ah tu dici Se torniamo un attimo All'artwork Di ulti dedalus Vedete che Le tre teste Di ulti dedalus Sono cari uscini Le vie dragone E Re mare Tra l'altro Non si nota Che è l'altro Che è stato Palesemente Rubato Da Furia di cari uscini Eh in realtà No non è stato Per niente Rubato da furia di cari uscini Solamente I tornado Ma Eh appunto Neanche Perché li ho disegnati Comunca mano Eh sì Dico però L'idea è quella In ogni caso L'idea è quella Uno dei tornado Infatti è molto simile Questa terreno Viene sempre considerata Come Umi E ci mancherebbe altro Perché se no Il mazzo non girerebbe Eh voglio dire Quando questa carta Viene attivata Puoi aggiungere Una carta Che specificatamente Lista Umi Nel suo testo La carta Umi Nel suo testo Quindi di conseguenza Eh sì Di conseguenza In un mazzo In un mazzo Dedicato Può andare Veramente Ogni singola carta Sì Adà tutto il mazzo Se questa carta Viene mandata Dalla zona terreno Al cimitero Puoi attivare Una Umi Dal tuo deck O cimitero Eccetto Lei stessa Quindi di conseguenza Anche se Attiviamo Un altro terreno Per mandare questa Noi possiamo attivare L'effetto E attivare un altro terreno Solo che Non deve essere Lei stessa Non deve essere Lei stessa E ci fotteremmo Alla terreno Che abbiamo attivato Però vabbè Possiamo utilizzare Dipende dalle situazioni Possiamo attivare Un effetto Del labirinto Una volta per turno La carta è buona C'è realmente E si E' un meltdown Barra Qualsiasi terreno simile Che ha da sua attivazione E in più L'effetto particolare Che si sostituisce Quando uno dei mostri I mostri Levi Tani Cose varie Daedalus La mandano al cimitero E' molto buono Persino Fottutissimo Kodarus La può mandare al cimitero Spaccare due carte E poi Attivarne un'altra Insomma E' una carta simpatica E infine Abbiamo Ominus Ocean Che è una continua Perché le terre Non ci avevano cagato il cazzo Allora Signori Signori Oceano funesto Quando questa carta viene attivata Puoi attivare una UMI Dal tuo cimitero Mentre controlli UMI I mostri acqua che controlli Guadagnano 500 Di attacco E di difesa Puoi attivare solamente uno Dei seguenti Effetti Di questa carta Una volta per turno O durante la main phase Possiamo evocare normalmente Un mostro serpente marino In aggiunta O possiamo impedire Al nostro avversario Di attivare carte O effetti Durante la battle phase Di questo turno Possiamo utilizzare Solamente un effetto Di Ominus Ocean per turno Solo una volta per turno E' solo una volta in quel turno E' solo una volta in quel turno Esattamente E' molto forte questa Soprattutto perché Attiva senza targettare Quindi se ne abbiamo diverse Al cimitero E' un casino Per il nostro avversario Esatto Infatti E la cosa è molto figa Proprio così Perché a noi Verosimilmente Tutte le terreno Vanno bene? O sbaglio? Sì esatto Dipende Oddio Ce ne sono due specifiche Che ci servono Che sono L'oceano leggendario E il labirinto Appunto Proprio perché Sono le migliori Che abbiamo Perché l'oceano leggendario Riduce il livello Di tutti i mostri Tra acqua che abbiamo in mano O sul terreno Di 1 Di conseguenza ci permette Di fare normal Di mostri di livello 5 O di mostri di livello 6 Con un tributo solo Ok Livello 7 Con un tributo solo Scusate Quindi Sì ci sta molto forte Soprattutto per il fatto Che ci fa attivare Senza targettare Eh già Poi la cosa del boost Aiuta anche i nostri Inoltre aiuta anche I nostri pescatori leggendari Per fare cose Durante la battle phase Perché credo che uno Faccia cose durante la battle phase Non mi ricordo Tuttavia Niente Sono queste le carte Che abbiamo messo come supporto Sembrano effettivamente poche Però Vi posso garantire Che bastano e avanzano E anzi Ve lo dimostreremo adesso Che faremo una partita Fammi vedere se ho ancora salvato Oh no Immortali Sup Ah no ok Xsaber La lista Xsaber Che mi mandasti tu Ok va bene Sovietrox No Cazzo Che il tuo Con i supporti Andando prima È fortissimo Dipende dalla mano che vedo La vedi La vedi Sei tranquillicavi Ok Ok Standby Main Ok Ok Che cazzo Va bene Effetto Va bene Adò Secondo richiamo di Gotham Furibaka Quanto cazzo è figo Ok Poi è un nano alla fine Allora Devo Prima di tutto attivo Tenky Pure Ok va bene Con Tenky Allora Suribaka può essere considerato Come livello 4 Giusto? Sì Ok Cosò è 9 Va bene 4 Vuoi farmi Shenshen passo Bastardo Non puoi giocare Shenshen Dobbiamo essere puri Va bene Come vuoi Se no mi mettevo le Dark Ruler No more di me Quindi guerrero bestia Quindi guerriero bestia Ho di cercabile Ragigura Boggart Ragigura Boggart Basta Ok Quindi questo può essere considerato Un 4 Una 5 Ok Allora Mi addo Ragigura Mi addo Ragigura Mi addo Ragigura Poi faccio Normal Di Mara di Ruler Effetto Che pure Mara di Ruler Hai pescato Va bene Ti hai detto che dobbiamo giocarlo puro Io c'ho Sì sì Io c'ho un gatto che grida Lo vado a zittire subito Un attimo solo Intanto fai la tua giocata Non ho Perché non ho interruzioni Ok Evoco Yunlei Poi Attivo Second call Per Rebornare Scuribaka E Mara di Ruler Mando al cimitero Yunlei E Scuribaka Per Evocare Il supporto nuovo Dove sta? È un 6 Ok Per evocare specialmente Gotham Eh sì Per forza Poi faccio Normal di Raggigura Ok Effetto Addo alla mano Scuribaka Al cimitero Ok Va bene Effetto Gotham Per 2 Ok Quindi mandagli al grave Tira il dado Uno Questa qua Ok Secondo effetto Di Gotham Questa qua Ok Ok Si può fare Il terzo Che dici Va bene Se è proprio voi Facciamolo il terzo Dai Va bene Va bene Questa Ok 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 Non dico di non poter fare nulla Ma potrò fare veramente End E invece Stand by main Vai Stand by main Eh sì Stand by main Attivo labirinto Che bello Che bello che viene pure Ok 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 Aggiungo Sea King Che lo puoi Puoi rivelare Per evocarlo Giusto? Sì Effetto di Sea King Rivelo Daedalus Ok E lo evochi special Va bene Perfetto di Sea King Mando Umi al cimitero Agi Agi Addi Un Daedalus Dal deck O cimitero alla mano Vai Mi vado a dare Oddio Eh qua è una scelta difficile In realtà Qua è una scelta difficile Let's go Anzi no Non è per niente difficile Aggiungo Neo Daedalus Ok Effetto della terreno Ne attivo un altro L'ammazzo Sì Attivo L'oceano leggendario Quindi è un 2-8 Sì Ok Siccome lui Conta come le vie dragon È Daedalus Cannot be special summoner Ok You can send a nume Ok Che fai? Set 1 Attivo Neo Daedalus In catena Ti rimbalzo Neo Daedalus Che bastardo Ok va bene Quindi vanno tutti Il grip Per un cazzo End phase Ok Eh qua servirebbe Metterci delle trappole Tipo Back to the front Cose varie Però Non l'ho fatto Quindi Amen Tu aspetta Cosa avevi in mano Che non ho ancora visto Scuribaca E rescue Eh Rettum scazze Rettum scazze Ok che forte Stand by main Ok Quel cazzo di compulso Risulta Ok faccio Normally Dark Soul Stai in picchi di 100 Battle Picchio di 100 Beh oh Stai vincendo Effettivamente Eh si Tecnicamente Main 2 Attivo colpo Sciabola Sul mio Dark Soul End phase Effetto Dark Soul Ado Un mostric saber Ovviamente Vado a prendere Scuribaca Scuribaca End Ok Drew Sì Stand by Main Mh Etto Una Ok Stand by main Ok Special Effetto Ok ti vai a prendere Il second call Second call Devi controllare un sincro Giusto? Sì Mi vado a prendere Special Troops Sì Special Troops Mi permette Di addare Un mostro Dal mio deck O cimitero Alla mano X saber Quindi Attivo Risolvesi? Eh si Purtroppo si Ok Ado Dal Dal cimitero Dark Soul Allora In catena Io Voglio attivare Crystal Attack Che mi fa attivare Una carta umida Al cimitero Ok E attivo Il labirinto Non me la fa attivare Quindi devo Fare così Santo Cristo Allora Effetto di labirinto Ok Adda Eh si Labirinto Adda Anche quando viene attivato D'altre carte Eh si Adda Eh no Lo dico per Chi è Per chi sta Quindi sulla risoluzione Lo stai facendo Va bene Esatto 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 Miedo Dedus Ok Va bene Posso andare? Certo Certo Normal Dark Soul Mando Questo L'hai modificato L'effetto? Quale? Il token Lo posso creare I token Li posso creare A prescindere? Non nel turno In cui la mandi al cimitero You can only use Each effect Once per turn Senti Per ora Siccome sta scritto così Fallo Altrimenti Ok Posso specialare Due X Saber Troop Tokens Di livello 1 Attacco 1000 Difesa 1000 Non so se mi conviene No non mi conviene Mando al cimitero 1 e 2 Ok Vado ad evocare Yunlei Immaginavo Effetto Yunlei 1 2 E 3 Effetto di Labirinto Sì Attiva Ok Dicharo battle 2 e 3 diretto End phase Attivo Dark Soul Va bene Va bene Dark Soul Dark Soul Mi va a prendere Faur Troll Hai modi di Autarmela? Volendo sì Effetto Effetto di Cremare Rivelo Effetto di? Lui Ah ok Ecco Adesso c'è il problema Perché per evocare L'altro Devi tributare lui Ma non è vero Perché non è un problema Effetto di Seeking Mando al cimitero Per andare Sì Vai Prendo un secondo Neo Daedalus Va bene Va bene Tributo Ed evoco special Ok Daedalus Sì Tributo Ed evoco special Ulti Daedalus Ok E' unaffected Ok Sì Va bene Effetto di Ulti Daedalus Per attivare La terreno Grave Sì Vai Ok Me la fa mettere La Perché? Va bene Sti cazzi La sposti Fai move Devi fare move No move Lo me la fa mettere La Va bene Effetto di labirinto Di addare Vai adda Mi addo Codarus Ok Ora siamo effettivamente In main face Bene Normal Codarus Ok Effetto di Codarus Sì Mando al grave Targhetto le tue due carte Le mando al cimetro Catena Attivo emergency call Ok Targhetto 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 Scuribaka E Dark Soul Uno Sì E Due Risolve Ok Risolve Quindi mandai un lay al grave E risolvo Scuribaka Ok Su Scuribaka Parte anche labirinto Ok Allora Scuribaka Mi permette di aggiungere Una carta Gotham Dal deck Alla mano Fai vedere cosa posso aggiungere Che mi può salvare le chiappine Ciao Battle face Te li togo entrambi Ok Quindi in hand face mi partirà Dark Soul Va bene Eh purtroppo sì E vado in hand Effetto Dark Soul Ok Mi addo Boggart Speriamo che questi supporti vi piacciono Potete testarli Per Lì da voi Su Eh Insomma Su Dove cazzo volete Anche in real Vi stampate Vi stampate le carte in real E ce le avete Sì Tuttavia Ovviamente su Duelingbook Saranno in inglese Perché Duelingbook È internazionale E Niente Diteci che ne pensate Se volete di più Se volevate di meno Se vi basta Se non volevate Non vi basterà mai Se non volevate E diteci anche i mazzi Che volete supportati Qua sotto nei commenti E il Gero poi Deciderà se farli o meno Se farli o meno Se avrò tempo per farli Noi ovviamente Stiamo schippando la partita Perché si sarebbe Stallata in difesa Perché Con il mazzo che ho Non posso Superare un 4k In une Quindi di conseguenza E io ho da fare Quindi dobbiamo sbrigarci Culo Ok Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Scrivete qua sotto Nei commenti Quello che vi avevo chiesto Let's go Vinto Ciao ragazzi 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 Grazie per la visione!